Oggi visita del sindaco di Olbia per mettere a fattor comune le esperienze contro il rischio idrogeologico. Abbiamo una grande esperienza contro il rischio idrogeologico e abbiamo fatto tanti cantieri e tante opere. Il sindaco di Olbia è interessato ai nostri risultati e a quello che abbiamo fatto perché lì hanno un problema simile. Quindi è bello che le amministrazioni si parlino, è bello che si parli con Olbia che è una città che ha molte relazioni con Genova. Pensiamo solo alla quantità di genovesi che passano l'estate lì e alle relazioni commerciali che abbiamo tra Genova e Olbia. Quindi è importante che le amministrazioni si parlino e quando le amministrazioni si parlano 1 più 1 fa spesso 2.5 o anche 3. È uscito un tema, comuni e regioni dovrebbero poter spendere direttamente i soldi contro questi rischi. Sono assolutamente d'accordo, come al solito la burocrazia complica molto la strada. Dobbiamo cercare di semplificare al massimo perché il cittadino ha bisogno di vedere la ricaduta delle proprie tasse. Diciamo ai genovesi che a settembre, pur non essendoci ancora al collaudo, però lo scolmatore potrà già essere utilizzato. Questo ancora non lo so, però queste sono le previsioni migliori che ci stanno dando in questo momento.